Ha preso fuoco all'improvviso un fragore e poi una fiammata che in pochissimo tempo ha distrutto quella che prima era una roulotte trasformata in un'abitazione di convenienza. Alla fine solo rottami ed un ammasso nero di detriti, questo lo spettacolo che i vigili del fuoco e i carabinieri di massa si sono trovati davanti nella tarda mattinata di oggi a Turano, nel grosso campo in via del Papino che si affaccia sull'Aurelia. Trafico bloccato, una lunga coda di macchine, l'arrivo spedito di due autopompe dei vigili del fuoco che ha evitato che le fiamme divampassero altrove coinvolgendo il resto delle sterpaglie e della vegetazione. La roulotte adibita ad alloggio di fortuna ridotta ad un mucchio nero di plastica di caligine e la disperazione del proprietario, un ragazzo marocchino sopraggiunto pochi minuti dopo in preda ad un visibile stato di angoscia e di disperazione per la casa distrutta. Urlava disperato che nel mondo non esiste più pace e non c'è posto per nessuno, mentre un'altra persona, probabilmente un amico, si avvicinava a lui cercando di calmarlo. È stata una fortuna che non ci fosse nessuno all'interno della roulotte al momento dello scoppio delle fiamme, nessuno all'interno come nei paraggi dove il ragazzo nordafricano aveva costruito un riparo di necessità, qualche seggio alla bianca, un tavolino, uno stenditoio per i panni, un piccolo mobile per le vivande, la poca mobilia che si riusciva ad intravedere nascosta nel verde del prato. Nessuna spiegazione al momento è possibile fornire sull'accaduto i rilevamenti e le indagini dei carabinieri, cercheranno di fare luce sulla vicenda. Una vendetta trasversale di qualcuno, una disgrazia che poi è degenerata o solo un fatto accidentale, ancora non si può dire. Resta palpabile la sorpresa per i tanti vicini che si sono affacciati sulla strada. Nessuno ha mai dato problemi di loro, mormora qualcuno. È un ragazzo molto tranquillo ed educato che già da tempo viveva nella roulotte. Chi abitava nella roulotte ci stava già da un po' comunque marocchini e nordafricani di fede musulmana come quelli che frequentano la moschea poco distante di Turano.